In questo video proseguiamo la nostra panoramica su Padlet, vedendo ora le funzioni più avanzate, le funzioni diciamo da amministratore, che si trovano nella parte destra. Molto rapidamente abbiamo detto che Padlet è una specie di lavagna multimediale in cui attaccare i nostri post-it multimediali. Questo lo si può fare tramite un doppio clic, cosa che ora sto facendo. Come vedete il post-it è comparso, nella parte alta possiamo mettere il nome ma anche l'argomento, ipotizziamo il nome di uno studente, ecco qui, e nella parte bassa possiamo mettere un contributo testuale oppure qualunque altra risorsa attraverso il menu di inserimento che compare ad ogni post-it. Eccolo qui. Tramite questo menu possiamo inserire una risorsa da internet o dal computer o addirittura tramite webcam. Le risorse che ho inserito sono provenienti in alcuni casi da internet, per esempio questa, che è una video di un documentario su Leonardo e questa è un'immagine. Proviamo anche a inserire una risorsa che invece possediamo noi, abbiamo scritto noi, per esempio il caso può essere di una risorsa elaborata da un ragazzo, clicchiamo su una di queste icone, hanno una forma diversa ma sono tutte poi con la stessa interfaccia, eccola qui. Clicchiamo su carica, selezioniamo il file, ecco qui vitadileonardo.doc, il che vuol dire che è un documento di testo, in un attimo è stata caricata perché è un documento molto piccolo, ci viene fatta una preview, eccola qui, ok, c'è un caricamento ed ecco qui la risorsa. Potete vedere una cosa, che questa risorsa ha un'icona di un libro aperto, il che significa che Padlet è stato in grado di decifrarla e di farne una preview. Questo avviene per i file più noti, per esempio il JPEG, per esempio il Word, per esempio il PDF, ed è una funzione molto comoda perché consente di leggere la risorsa anche senza uscire da Padlet. Se io infatti clicco qui, vedrete che Padlet mi elabora una, eccola qui, risorsa della vita di Leonardo, che era quel file Word appena inserito. Se poi clicco su View Original, mi apre materialmente il file Word che ho appena ora caricato. Ora vediamo tutto quello che compare nella parte destra. La parte destra serve per amministrare una pagina di Padlet. Allora, per prima cosa il logo di Padlet. Se io clicco su questo logo, vedrete che mi riporta nella pagina Home, quindi nella pagina di partenza, nella quale noi possiamo creare una bacheca oppure avere spiegazioni sulle funzionalità di Padlet, degli esempi e degli extra che vedremo poi. Torniamo al nostro Padlet. Ora invece clicchiamo su Più. Se io clicco su Più, comparirà, ecco qui, in una nuova scheda, una nuova bacheca. Questi sono i secondi, ecco qui. Ecco, la tua bacheca è pronta. Qui possiamo fare di nuovo un altro lavoro. Naturalmente questa bacheca avrà un link diverso dalla precedente, il che vuol dire che se dirigeremo il mouse verso il link di questa piattaforma, avremo un foglio di lavoro completamente diverso dal precedente, che è questo. Ora, terza icona, accedi o registrati. Questo serve naturalmente se siamo utenti registrati. Io consiglio di registrarsi di modo tale che tutti i Padlet, cioè tutte le lavagne multimediali che andiamo a comporre, poi potranno essere salvate e richiamate in qualsiasi momento. Altrimenti è possibile, come sto facendo ora, lavorare su Padlet. Tuttavia il lavoro poi non viene salvato. Sarà online per un certo numero di giorni, raggiungibile dall'indirizzo che viene generato casualmente da Padlet, che nel nostro caso è questo. Eccolo qui. Però dopo un certo numero di giorni questa pagina sparirà. Ora, vediamo un'altra caratteristica. Condivide ed esporta. Questa è una funzione molto importante. Se io clicco, ecco, vedete che ci sono tanti modi per esportare. Cominciamo a vedere i più noti. I social network. Nella parte alta è possibile condividere su Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Tumblr, LinkedIn, il nostro lavoro. Oppure, e può essere altrettanto utile, esportarlo sotto forma di file, come un'immagine, naturalmente a quel punto tutta la multimedialità e gli allegati andranno perduti, come un PDF, come un file Excel, o addirittura come un file CSV, cioè un file usato per le rubriche, per esempio, telefoniche. Nel nostro caso di Leonardo da Vinci non genererebbe un file particolarmente utile. Oppure, altra categoria, iscrizioni, cioè come posso seguire l'utente che ha creato questo tipo di contenuto. Per esempio, via RSS, vale a dire, ogni utente che è registrato ha un suo account. Questo account genera un feed RSS, che deve essere naturalmente poi comunicato, deve essere comunicato a chi vuole seguire. tramite questo feed, il follower, cioè colui che segue l'autore, può vedere gli aggiornamenti che mano a mano l'autore fa dei suoi Padlet. Oppure via mail, tramite una semplice newsletter, o tramite una stampa tradizionale. Questo invece è l'aspetto più importante, l'embedding, cioè incorporare. Come vedete, qui Padlet mi offre un codice HTML che se io copio in una qualunque parte, per esempio in un blog WordPress nella sezione HTML, mi integra tutto questo Padlet che stiamo vedendo dentro un'altra pagina. E questo è molto molto comodo. Addirittura c'è anche la possibilità dello shortcode, cioè del codice breve sintetico per WordPress, che è questo. Tramite l'inserimento di questa piccola, semplice riga di HTML, è possibile fare l'embedding, cioè incorporare quello che sto vedendo dentro un'altra pagina. Qui peraltro vedete larghezza 100%, altezza 480. La prima è una larghezza in termini percentuali, la seconda è una larghezza in termini di pixel, 480, che sono quindi anche modificabili. Oppure, e questa è una funzionalità recente di Padlet, codice QR. Tramite questo codice, naturalmente con un lettore apposito, per esempio tramite smartphone è possibile condividere il Padlet senza stare a scrivere il link, perché come vedete qui i link sono a volte molto lunghi, molto complessi da digitare, da dettare per esempio. In questo caso col codice QR è tutto molto più semplice. Vediamo anche altre informazioni, per esempio se vado sulla I di informazioni mi dice chi ha composto questo Padlet, in questo caso io non essendo registrato in questo momento risulto anonimo, la data, poi chiedi aiuto, serve per avere una specie di guida in linea piuttosto semplice del funzionamento di Padlet, oppure inviare una mail agli amministratori. E arriviamo quindi alla parte più interessante, l'ingranaggio. Se apriamo l'ingranaggio, vedete che si apre un sottomenu molto ricco. Questo sottomenu molto ricco serve a cambiare alcuni aspetti esteriori di Padlet. Cominciamo. Infobase. Ora, come vedete, il mio lavoro su Padlet non ha un nome. Da questo punto io invece posso darglielo. Per esempio scrivo Vita di Leonardo. E infatti in alto a destra, qua, vedete che è comparso. Descrizione. Posso dare una descrizione breve o lunga del mio lavoro. Come vedete è comparsa sotto al titolo. Poi, posso scegliere una miniatura, questo è un fatto esteriore, diciamo relativamente inutile, eccola qui, una miniatura che rappresenta me come autore del Padlet. Se vedete accanto al titolo, stanno cambiando le miniature in base alla mia scelta. Poi, wallpaper. Vado nel secondo menu. Wallpaper è lo sfondo. In questo caso lo sfondo è quello predefinito, cioè questa sorta di grigio carta, però io posso farlo scuro, o come, ora li scorro tutti, come vedete ce ne sono di vari tipi, che possono anche adattarsi, a volte meglio, a volte peggio, a quello che è il contenuto. Forse questo si adatta meglio al caso di Leonardo da Vinci. Struttura. La struttura per ora è caotica, vale a dire l'ordine nello spazio dei miei post-it. La struttura, come vedete, può essere libera, è quella che è usata e per il brainstorming è forse la più adatta. Serie. Ecco qui. Se io la scelgo quella in serie, tutti i contributi vengono posti l'uno accanto all'altro. Oppure griglia. Ecco qui. Questo è un modo molto semplice di dare ordine a un documento che può essere potenzialmente caotico. Privacy. Anche questo è un aspetto molto importante. Naturalmente funziona solo per gli utenti registrati. Possiamo stabilire che il Padlet non sia raggiungibile dall'esterno, cioè sia privato, oppure protetto da password, oppure non visibile, e qui ci sono anche tutta un'altra serie di ipotesi. Per esempio, non visibile ma si può visualizzare dice la bacheca e i post, ma non si possono aggiungere nuovi post, oppure si può scrivere, oppure si può moderare. Oppure può essere completamente pubblico. In questo caso, chiunque faccia una ricerca può trovarlo, naturalmente in base al titolo e alla semantica che è dentro il Padlet. Oppure si possono anche invitare degli utenti a collaborare. Aggiungi, vedete, aggiungi altre persone usando l'email o il nome utente. Altri controlli sulla privacy, ultima ipotesi, sono relativi ai commenti. Io posso commentare il Padlet e posso decidere se i commenti compaiono subito in tempo reale, oppure se debbano essere moderati dall'amministratore. Quindi, come vedete, questa parte è molto utile, specie se il Padlet è un modo per fare un lavoro con gli studenti nel quale ci siano dati sensibili, per esempio le fotografie o anche altri documenti. Notifiche. Anche questa parte richiede di essere registrati. Notifiche significa che ogni qualvolta un autore compone un nuovo Padlet, chi è registrato e ha deciso di sottoscrivere le notifiche riceve una mail. Indirizzo. Questo è l'aspetto fra i più importanti. L'abbiamo già visto anche nell'altro video. Questo è l'indirizzo che Padlet ha generato univocamente e che porta univocamente qui. Tramite questo indirizzo chiunque, anche con un tablet, anche con uno smartphone, può non solo vedere la pagina ma interagire con la pagina. Tu, qui naturalmente non compare nulla perché non sono registrate. Qui ci dice non hai affettuato l'accesso puoi modificare questa baccheca per 24 ore altrimenti poi verrà distrutta. In realtà da allora durano anche più di 24 ore ma se non si è registrati prima o poi spariscono. Copia. Questa è una funzione molto molto utile. Se infatti abbiamo creato una struttura che ci è congeniale vi faccio vedere per esempio questa che è un modello di Padlet. Questa è una struttura a blog come vedete che ha un suo sfondo in questo caso lo sfondo è la frase Cesare che ha un suo testo e che ha un suo ordine eccolo qui ecco se io ritengo che questa struttura mi potrà servire anche per altre circostanze che non saranno quelle dedicate a Cesare allora io posso salvarla di modo da riusarla anche in altre circostanze come io se ne salvassi un modello e cliccando su Copia io creo una copia speculare di questo Padlet che quindi manterrà la struttura e ovviamente andrò a modificarne i contenuti e poi elimina naturalmente con elimina è abbastanza facile capire cosa succede si possono fare varie forme di eliminazioni in ogni caso si arriva anche a togliere di mezzo totalmente il Padlet quindi riassumendo abbiamo visto che il nostro Padlet è un ottimo strumento per il brainstorming è un ottimo strumento anche per la preparazione delle lezioni perché anche in assenza di brainstorming per esempio noi possiamo ecco qui fare una lezione molto semplice su quello che è un argomento tramite anche la minima conoscenza del funzionamento della programmazione perché come avete visto è tutto visuale non occorre alcuna competenza di programmazione nemmeno di gestione di un blog perché è tutto fatto attraverso il doppio clic poi abbiamo visto anche come modificare l'apparenza del Padlet e ripeto ancora è il tasto relativo all'ingranaggio che poi apre a tutta un'altra serie di opzioni tra cui per esempio quella del wallpaper che noi abbiamo modificato e stiamo ancora modificando un'ultima cosa vediamo le funzionalità ecco questa è una pagina che Padlet mette a disposizione raggiungibile dall'home page sono dei video in cui vengono dimostrati molto semplicemente come agire su Padlet poi questo è un aspetto già più tecnico è possibile inserire un plugin in Wordpress che consente facilmente l'integrazione nel proprio blog naturalmente il proprio blog Wordpress con con Padlet e poi e anche questo è molto molto comodo questa è una estensione di Padlet per Chrome vale a dire una piccola funzionalità che si installa nel browser e che consente di creare in pochi click ancora più rapidamente di quanto abbiamo fatto noi il proprio Padlet dunque abbiamo visto che questo strumento risulta molto utile non solo per il brainstorming ma anche per la creazione delle lezioni gli aspetti fondamentali sono il link condiviso che può essere raggiunto da tutti e l'estrema facilità con cui si può interagire con la nostra pagina non solo per la creazione grazie a tutti